Le manifestazioni di interesse non sono mancate. Ora c'è anche la proroga del termine per la presentazione di offerte. Una sorta di ultima chiamata per il futuro del Donna Fugata Resort, la struttura ricettiva pluristellata con campi da golf per i più rinomati circuiti mondiali, ma fallita lo scorso anno, non per debiti di esercizio, ma per il contenzioso e insanabile tra proprietari dell'area e gestori. E così il curatore della procedura fallimentare nominato dal Tribunale di Catania si è convinto a prorogare il termine ultimo per la presentazione delle offerte, data per scelta appunto 31 ottobre. Per la vendita del complesso turistico pare ci siano alcuni gruppi stranieri di interesse, sia per l'investimento immobiliare che per la gestione. Lo ha dichiarato Carlo De Romedis, direttore della Coldwell Banker Commercial, società che opera nel campo della consulenza, dell'intermediazione e della valorizzazione immobiliare, nella qualità di advisor esclusivo per la gestione d'azienda del complesso turistico al belgiero siciliano. Per De Romedis è già direttore generale di Italia Turismo, ex direttore in Italia di Barceló Hotel, è responsabile della divisione alberghiere in Coldwell Banker Commercial, colui che ha consentito l'arrivo in Sicilia del gruppo spagnolo Zara. Il complesso turistico ebleo ha grandi potenzialità e gli investitori interessati non mancano. Il resort, osserva, non ha mai risentito di contraccolpi, anche lo scorso anno in piena crisi societaria ha fatturato oltre 8 milioni. Qui esiste una perla turistica in grado di supportare un turismo di qualità internazionale. Il Donna Fugata Golf Resort è un hotel 5 stelle, dispone di 194 camere di diversa tipologia, di due campi da golf da 18 buche ciascuno, è dotato di un centro congressi, una spa, quattro ristoranti. Nei mesi scorsi i dipendenti esasperati per non avere potuto ricevere lo stipendio dal momento del fallimento hanno chiesto e ottenuto di essere licenziati per percepire indennità sociali e cercare un'altra occupazione. Solo di recente si è aperta la prospettiva della vendita. All'inizio la curatela fallimentare aveva puntato sull'affitto di gestione, ma nessuna offerta valida è stata mai presentata. Da quando è stata prospettata la vendita, sono giunte manifestazioni di interesse dall'Inghilterra, dalla Francia e dalla Spagna. Questa situazione è conseguenza del fallimento dichiarato dal Tribunale di Ragusa il 31 maggio dello scorso anno, nei confronti del Donna Fugata Golf Resort, con la conseguenza e apertura dell'esercizio provvisorio fino al 30 novembre 2018. A dicembre il primo bando per l'affitto d'azienda con scadenza del termine il 10 gennaio del 2019. Al bando partecipò solo un'azienda, risultava priva dei requisiti richiesti. Il 25 gennaio scorso fu aperto un nuovo bando con un ribasso pari al 50% rispetto al bando precedente, scaduto il 25 febbraio senza alcun risultato. I lavoratori impegnati nella struttura, fino a quando è stato operante, sono stati 45, di cui 8 a tempo pieno e 37 a tempo parziale verticale. La maggior parte di loro ha ottenuto di essere licenziata, anche per poter cercare nuove possibilità di lavoro e di avvalersi degli ammortizzatori sociali. Circa 15 hanno scelto di rimanere, pronti a ripartire se la vendita dovesse andare presto a buon fine.